Grazie E quello anche per le vene ci trovano bene Ma vabbè, c'è molto molto bello Fabio Fabio Vedi se mi fiazzi un po' di quei peperoncini piccoli Vuoi due peperoncini? Nooo Perché vuoi peperoncini? Vedi se mi piace questo Guarda di fare la foto lì Ah quale? Fate un sacco di soldi Voi credete ma di intagliato ci sono quel pezzo lì perché lì fa la macchina dopo a casa No Diffamazione Vedi Fate fidare Qui c'è una guerela Una guerela Ma l'hai dato molto conoscito e l'ho fatto vantare Ah ecco Certo c'ho le tempo Non è che Sì Vedi Vedi Sì Grazie